Uno dei temi importanti nel dibattito economico attuale è quello del piano nazionale di ripresa e resilienza. Discutere di questo piano con gli attori principali è l'obiettivo di questa sessione. In particolare avremo due delle strutture chiamate dal monitoraggio del PNRR, che sono l'unità di valutazione, ci sarà un intervento della ragioneria generale, così come ci sarà un intervento da parte della cabina di regia. Accanto a questi due interventi istituzionali se ne affiancano altri due. Uno di uno dei ministeri, il Ministero della Mobilità Sostenibile, per vedere come viene declinato il piano all'interno di una singola realtà ministeriale e l'altro invece legato alla presentazione degli aspetti organizzativi dentro l'ufficio parlamentare di bilancio.